L'azienda Erbanito di San Rufo si contraddistingue di nuovo per i suoi prodotti in Regione Campania con un premio eccellenza. Siamo con Raffaella Marmo, titolare di questa azienda. Sì, quest'anno abbiamo preso l'eccellenza con il caprino e il cacio ricotta. Il cacio ricotta che è un nuovo prodotto che stiamo offrendo al mercato, presidiato Slow Food, ed è un formaggio realizzato con il latte di capra cilentana. Diciamo che sono tre anni che concorriamo a livello regionale con la vincita del formaggio caprino, del formaggio pecorino e ripeto, quest'anno, oltre di nuovo all'affermazione del formaggio caprino, abbiamo aggiunto anche quello del cacio ricotta. Parliamo invece un po' della storia dell'azienda. Voi siete sul mercato, se così possiamo dire, da tanti anni. Sì, la nostra azienda nasce da generazioni come azienda agricola e zootecnica. Poi, per un sogno realizzato, per fortuna, di mio padre, abbiamo messo sulla struttura ricettiva e realizzato poi il caseificio aziendale, con la prodotta di una vasta gamma, quali, come dicevo prima, il cacio cavallo, prodotti a pasta filata, il fior di latte, le burrine, classica denominazione artigianale che è la manteca, poi il caprino, cacio ricotta e il formaggio pecorino. Ovviamente tutti provenienti dai nostri allevamenti, che contano su un centinaio di capi di vacche podoliche. Poi abbiamo un 200 vini, 60 caprini. La peculiarità ovviamente dei nostri formaggi è quella che gli animali sono tutti allevati allo stato brado e lavorati a latte crudo, quindi mantengono inalterato il sapore, i profumi e le varie sostanze organiche completamente intatte. Io vi invito tutti a venire a degustare i nostri prodotti, li trovate ovviamente presso la nostra struttura sita in via Palizzo a San Rufo, per godere di ottimo cibo e di tanta natura.